buongiorno amici benvenuti da calendario oggi vi faccio vedere come incollare uno specchietto a il vetro di una macchina di un furgone in questo caso io lo voglio mettere qua nel furgone perché non ce l'ho e poi vi spiegherò il motivo in un altro video e quindi ho bisogno di incollarne uno ne ho preso uno su amazon e mi è arrivato come vedete questo specchietto con questo da incollare e la colla eccola qua della lampa ok prima cosa prendiamo la misura ovviamente lo specchietto dove lo vogliamo mettere e poi prendiamo il centro quindi ho misurato poi da qua qua il centro ho messo un nastro scusate un pezzo di carta il nostro adesivo dove puoi poter mettere ecco in questo modo anzi in realtà va così perché al contrario eccolo qua e poi inserisco il lo specchietto una volta che è la colla è asciutta perciò la prima cosa da fare è dopo aver preso la misura assicurarsi che sia tutto a posto e procedere con la colla quindi mettiamo la colla qua sopra e andiamo a incollarlo coprite magari per evitare che se cade la colla va a incollare qualche cosa nella plastica poi dopo sono dolori a toglierlo quindi ho coperto con tovaglia diciamo vecchia e mi raccomando come vedete questo a un bordino quindi va messo col bordino ovviamente all'interno vi faccio vedere bene vedete all'interno modo che tiene lo specchietto e poi dalla parte di qua anche un buco dove va la vite quindi fa questo lavoro qua ok perciò va messo così ma inserito in questo modo quindi lo prendo così lo vado a ruotare e in teoria questa è la sua posizione ok quindi vado a mettere la colla ok con la messa adesso lo vado a piazzare ok lo teniamo per qualche minuto di modo che dovrebbe incollarsi vediamo se lascio ok sta su sta su tolgo questo va bene lo lasciamo lì agire e poi dopo mettiamo lo specchietto ok ragazzi sembra un collato veramente veramente bene ho invitato un po di più la vite e adesso andiamo a inserirlo ovviamente in questo modo qua così ecco qui guala abitiamo la vite con il cacciavite perfetto come vedete è molto molto stabile l'ho messo perché poi vedremo un video dove metterò questa cosa molto molto e non ci sarà solo questo ci vediamo al prossimo video da credentario ciao ciao